Contenere la diffusione del virus, implementare la fornitura di attrezzature mediche e promuovere la ricerca. Questi sono gli obiettivi principali dell'Unione Europea per fronteggiare il dilagare del coronavirus. Il summit tra i capi di Stato e di Governo, svoltosi in videoconferenza, ha approvato all'unanimità la proposta della Commissione Europea di bloccare i viaggi non indispensabili provenienti da paesi terzi verso l'Unione Europea per 30 giorni. Nel frattempo Germania, Austria, Ungheria, Lituania, Portogallo, Estonia, Spagna, Svizzera e Norvegia hanno reintrodotto i controlli alla frontiera, mentre resta limitato l'ingresso ai soli residenti in Danimarca, Polonia e Repubblica Arceca. Anche la Banca Centrale Europea sta adottando misure specifiche per supportare i cittadini europei durante questa emergenza, stanziando un nuovo programma di acquisto dal valore di 750 miliardi di euro di cui potranno beneficiare famiglie, governi, banche e aziende. Il Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, ha rivadito la disponibilità del Parlamento Europeo nel fronteggiare l'emergenza. Per vincere questa drammatica sfida è in campo un'Europa che deve essere più unita perché vuole essere più utile. Il Parlamento Europeo è pronto a fare la sua parte per difendere la vita e il lavoro della nostra gente. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato tra le varie iniziative l'apertura di un bando pubblico per quanto riguarda mascherine e respiratori, a cui hanno preso parte 24 Paesi UE. Sempre la Commissione Europea, per voce di Janet Selenaric, commissario europeo per la gestione della crisi, ha annunciato la creazione di una scorta di materiale medico per fronteggiare simili crisi sanitarie. La Banca Centrale Europea schiera un piano di acquisto di titoli pubblici e privati da 750 miliardi di euro per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. La decisione è stata presa nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo con i membri collegati telefonicamente. Gli acquisti saranno condotti fino alla fine del 2020. Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie, ha commentato la Presidente della BCE, Christine Lagarde. Nel 2019, 612.700 richiedenti asilo per la prima volta hanno chiesto protezione internazionale nei 27 Stati membri dell'Unione Europea, in crescita del 12% rispetto al 2018, ma circa la metà del numero registrato nell'anno di punta, il 2015. I siriani e gli afghani hanno continuato a essere la principale cittadinanza delle persone in cerca di protezione internazionale negli Stati membri dell'UE nel 2019, seguiti dai venezuelani che sono saliti dal quinto posto del 2018 al terzo posto del 2019. Nel 2019 la Cina è stato il terzo partner più importante per le esportazioni di beni e il principale per le importazioni di beni dell'Unione Europea. Nel periodo 2009-2019 l'UE ha registrato un disavanzo commerciale delle merci con la Cina che variava tra 104 e 164 miliardi di euro. Nel 2019 il disavanzo commerciale si è attestato a 164 miliardi di euro. Sia per le esportazioni dell'UE che per le importazioni di merci dalla Cina ci sono principalmente macchinari e veicoli, prodotti chimici e altri manufatti. I Paesi Bassi sono stati il maggiore importatore di merci dalla Cina e la Germania il primo paese per export di merci in Cina nel 2019. Iniziamo a tutti. Grazie a tutti.